Partire dal paesaggio extraterrestre per tornare a casa. Potremmo forse riassumere così la mostra Planetarium di Flavio De Marco che è allestita sui due piani della Galleria M77 di Via Mecenata a Milano. Potremmo farlo perché l'artista leccese con base a Berlino ha scelto di partire dagli altri pianeti del Sistema Solare e dal loro registro cromatico per strutturare i lavori di questa nuova esposizione che inizia al piano terra della Galleria con lavori che si ascrivono nella ricerca sul paesaggio e sulle sue contaminazioni digitali e che De Marco porta davanti da tempo come dimostra il progetto Stella ma che poi riserva non poche sorprese al primo piano. Giuseppe Lezzi, direttore della Galleria M77 Man mano che si montava la mostra è stata una scoperta continua di questo suo nuovo lavoro perché noi sappiamo che lui lavora per cicli quindi questo era un ciclo completamente inedito che lui ha presentato per la prima volta qui da M77 è stata un'emozione grandissima. Inedito come l'ingresso nei dipinti di elementi personali dagli spazi di lavoro alle bottiglie fino a una serie di autoritratti che culminano nel grande dipinto dell'artista in sella una moto ma accanto a momenti di qualche modo biografici che comunque grondano consapevolezza di storia della pittura appaiono poi anche delle riletture di ritratti di artisti del passato come Tiziano, Leon Battista, Alberti o Malevich questa volta dipinti come se fossero degli affreschi staccati ma sempre immersi nella dimensione della contemporaneità è importante l'idea per cui un artista dipinge qualcosa piuttosto che un'altra e dove c'è l'idea è sempre un passo avanti rispetto alla pittura in questo caso è un passo avanti rispetto ad altre forme di arte la mostra nella Galleria milanese resta aperta al pubblico fino al 27 maggio